Eccovi una dimostrazione di come Giorgia Meloni e il suo ministro della giustizia, si fa per dire, Carlo Nordio, sono favorevoli alla delinquenza e all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Bari ha scoperto un'evasione fiscale da 33 milioni di euro ad opera di ben 80 dentisti pugliesi e lucani che si avvalevano di un software appositamente creato sul computer per gestire i guadagni in nero. 47 di loro sono adesso indagati per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, reato per il quale rischiano 8 anni. Gli altri 33 invece non saranno processati perché non è reato evadere meno di 50 mila euro. Ebbene, il sistema era così ramificato che l'inchiesta sta impegnando tutte le procure della Puglia e della Basilicata. E sapete perché è stato possibile? Perché il singolo magistrato ha potuto sequestrare gli smartphone degli indagati senza dover chiedere l'autorizzazione al GIP come appunto vorrebbero imporre il ministro Nordio assieme al governo Meloni e al senatore guarda caso pugliese Francesco Paolo Sisto che tiene a battesimo il decreto legge Nordio Sisto che serve soltanto a rallentare le indagini e ad avvicinare la prescrizione. Utile anche ai politici. Un provvedimento utile agli evasori e quindi ai delinquenti che a Sisto evidentemente piacciono visto che dopo aver fatto l'utile idiota per molti anni alle leggi vergogna e a persona di Berlusconi oggi fa l'utile idiota a Nordio e alla Meloni per sfasciare ulteriormente la giustizia. Senza nemmeno un po' di vergogna. Ebbene, con gli smartphone ottenuti subito e quindi leggendo le chat gli investigatori pugliesi hanno scoperto gli intrallazzi informatici che consentivano ai dentisti evasori di nascondere i loro guadagni. Non solo, da lì sono poi arrivati anche i testimoni che hanno confessato di aver pagato i dentisti in contanti senza la fattura. Risultato? L'inchiesta di Bari, malgrado un governo che vuol tutelare i delinquenti, restituisce alla collettività, a tutti, un po' di mal tolto non consentito ai dipendenti. Quelli che con misere paga e mensili si vedono dimezzare la busta paga da versare allo Stato. Per non dire di quei contribuenti onesti che si ritrovano tassati a volte anche del 60%. Infatti è proprio procuratore di Bari, Roberto Rossi, che dopo aver messo in guardia il governo della crociata contro le intercettazioni, lancia un nuovo allarme a Nordio, a Sisto e a Meloni e gli dice «Con 33 migliori, signori, si potrebbe costruire un ospedale». «Non approvate quel decreto legge, se no, inchieste così, rischiamo di non farne più». Intanto che i dentisti e i vasori trattano con l'Agenzia delle Entrate su come restituire il dovuto, i telegiornali di te e Meloni vi parlano d'altro, di delitti e di tendaggi. Sveglia italiani!» «Concentrazione di notizie che poi vengono assorbite nel telefonino, nel cellulare, e che possono essere sequestrate con la sola firma di un pubblico ministero, cosa inaudita».